E cos'è? Spiccia, domo violo! Che buono e domani, non ciò! Non ciò? In due, non ciò? Cosa so, si ragni? E vetti a casa so così! Si raggiano sempre! Ehm... 666, allora... Crestaggio! Impossibile! E perché? Perché siamo in casa nostra! Il puttanismo è un tempo di guerra! Disgraziata! Ciò cattivato! Dalle nuzze alle doli si conosce nuovi parenti! Dice... Ma è meglio non vedere i morti! Noi due ci vedremo dopo! Non ti scorda che noi abbiamo qualcosa di esperto! Io ti aspetto qui! Che a parentia non siamo così sicuri! Non ci vedremo dopo! Questo poi vedremo! Un buio, un buio o io non altro! Io andiamo a Sparte, sì! Non so mica di quelli che li piace a sparte. Vengo subito. E tu, rivletti. E tutto rivlettuto. Arcanio non è ora i 6 parenti, ma io la capillo. Tutti i 6 parenti scoberti lì stesso giorno. Soprattutto fratelli e sorella. Sono qui! Per loro sono più vigili identiche i parenti. E' un gacciatore, un veterano. Sono sicuro che dovrei preparare un corpaccio. Lasciamo andare a vedere. Crescaccio! Chi c'è? Non so. Si è francata questa urta. Ma è vero che a morte piccia sempre tre urte. Così dicelo. Io non ci credo che nessuno ha visto muore tanto che non sia mai stato prevenuto. Dove è passato? Cosa vuoi? Cosa faccio? Beh, io. Ho bisogno di un nostro fratello. Allora? Vuoi dire la roba? Hai ragione. Fammi da stare. E' buono. Ma manca la pena di usare. Eh, ma non è caduto. Lasciami la pena. Hai già provato a fare sanguinelli? C'è un burgo, eh? C'è tale! Disgratiata! Non! Non, non! Non, non! Non! Non, non! Non! D'accord, Juan. Bon, c'è poi che continuo l'enquête. Allora? Non. Non, non! 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 Non, non! A conto mio, santo che c'è mai un po' di risa. Ridi, ride, 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 ma va piano, che risa sta in bocca ai scemi. E come si dice, un scemo ne face gente, e la studi ne provittano. Fattoria è la scuola di Gori, amore, donna di Gori, un'ala femmina per me. Baretto di Gori, questo mio. Dipigli bella iro, compagno di Jeannot d'arca. Tu, fru, scuola, mi hai fatto una buona, mi hai fatto. Ma cosa hai detto? Hai detto, dipigli bella iro e baretto di Gori. Mi hai ballato tutti i due, baretto di Gori. C'è qualcosa? Ho già sede. Perché hai scritto nel giornale che ti ha sede? Saluto a tutti. Posso avere un caffè? O ti fai da per te, posto che tu dici che tu sei in casa tua. Compro un casalone. Credi che lei sia un mezzo fratello? Un milioncino e tante. Ho già sede. Vedi sei una faccia come la sua. Mi cacciava subito subito. E tu stai assente, posto che tu si gusti. Stai con la bottiglia e serve un bicchiere di vino a talermago. Che c'è da legge al giornale. che c'è da legge al giorno. Hai visto quel che è stampato con i tanti? E vabbè ma... L'archivolo che leggi che cosa? E' notizia io. Lasciami vedere. Vedi. Ma è morto qui? Vabbè allora... ... ... E' bene. Tu hai detto che quando va a tua caccia ...d'un furgone di pizza... ... è un pieno giorno. Monta di ora per 20 euro. 20 euro? ... ... hanno fatto un articolo davanti così per solo 20 euro. E' un legno? 300.000 euro! 300.000 euro? Piombo! Hanno venduto 300.000 euro di pizza. Ma allora... ... quanto hanno messo le regole qui? No... ... hanno messo l'aglio. Sai che qua... ... in Bastia ci sono i furgon di pizza... ... che facciano traffico dell'aglio. Ma che ti prendi qui? Ma cosa ne so? Quanto a me li scappano. Se l'ha un caffè... ... beh da mattina... ... ti sciocco un piccolo caffè... ... dopo ti fumo una sigaretta... ... e ti scappa subito subito. No, 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 no... ... c'è altro a fare... ... questo tipo non è mica chiaro... ... lasciamo andare bene. Non hai giusto comprare il giornale... ... c'è maniera di leggerlo. La calanforia la notte... ... 300.000 euro... ... ho un pacchetto di soldi... ... ma l'aliener... ... prenderanno piatto. E' aperto? Entrate buro, entrate. ... ma l'aliener... ... si disolano? Avevo un cane... ... ma si è morto. No. E io... ... avevo un gatto. Caffè... ... ma l'aliener... ... ho usato... ... ho usato subito... ... eh... ... servite dei due... ... ah no... ... vi ringrazio... ... ma vengo in piallo... ... verrà... ... ho allora un acqua vita... ... io... ... un acqua vita... ... ho usato... ... il proprio... ... io... ... ho un caffè mi lullo... ... David... ... ma l'aliener... ... ma luna... ... ma luna... ... ma il non lo riceva Рас... ... ma luna... ... čas... ... ho I... ... ho... ... ho... ... oh luna... Non, 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 non. Non, 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 non Tieni. Mi manca uno. Scusate, datemi il sacco. Non toccatemi il sacco, eh. E vedi una camera per questa ruota, no? La camera è in quanto vuole. Mi collate e scegliete. Vai. Che staccio? Accendete il lume? Cacciate i spezzetti di sole. 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 Cacciate le mie. Cacciate i spezzetti di sole. Cacciate i spezzetti di sole. Cacciate i spezzetti di sole. che non mi piace. I stranieri che entrano in nome di me non sono mai sicuri di volerci fuori. Due di zuccheri nel tuo caffè è troppo. Come ci vuole sorte? Due di zuccheri deve avere un sangue di zepo inzuccherato. È notte di luna piena c'è un mondo vora feriano meglio di starsi l'esogase che è notte bigina di ammorte. Ora sento sa dove lo ha e sa anche quello che lo vuole ma non sa mica che tale ma che è appena cieco e in due in giardà fare. Ma va piano d'arecchia che è troppo stuzzicato ecco la nostra camera che è un'esogase dove è? che è l'esogase? che è? che è l'esogase? che è l'esogase? E dà dimmi il tuo sacco. Non tocchè dimmi il tuo sacco. Vabbè, un lato è di quelli, eh? Dì che... Se ne è passato affari... ...e sul lato... Appena dì... Biondox, prima di dorme. Oh vabbè, è dopo di già. Prima te, per favore. Uescarlo subito. Voltone. ... Il te l'ha di un cuore. Dote di zuccheri. Capire il buono, scusate con il sinusore, eh? No. Acestate! Acce di dorme! ... Mirad principalmente . Mar좀 qui? Alla Sì, Sainte Louvre, qual è ti l'aiuto a di un solo qu'il tronco? Ah, ti amo, ti amo, ti amo a quel che sia. Vengui subito! Aio, tristaccio, accendite l'uomo. Aio, tristaccio. Aio, tristaccio. Ecco l'ostro. Biondox. Due di zuccheria di un messo. Ma dove andate? I gabinetti sono di la straonda. Preferite ora, ne? Allora andate burro, poi burto in camera ostra. Aio! Sì. Quei, dove mi dici? E' un po' lo vasto. Sì. E' un pa' lo vasto, non ti amo? E' un po' lo vasto, non ti amo? Ozzanco! E' un' da da pišano ozzanco? Oh, no. 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 Oh, no.